Buongiorno amici, mi chiamo Jessica e benvenuti al video Sì, mi sono dimenticato, sto vloggando anche ad oggi, quindi è l'inzio, ma qui c'è un po' di rischi, il lemone, quindi le cocchi sono migliori però anche il lemone non è male Bellissimo succhino alla pera e la scelta tra biscotto e biscotto E' un po' di rischi E' un po' di rischi Biscotto 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 Per venire ci abbiamo davanti queste bellissime persone, guarda lì che ferie Andiamo? Dove andiamo? Era tipo un cane, cioè... Era un cane, attaccava tutti Ragazzi, benvenuti a Roma Andiamo, dai Aspetta, oggi è buono, è giusto, a me è un po' più fresco Sì, ma siamo solo i 37 L'altro giorno c'erano 41 Forse un zero L'altro giorno, un'altra settimana Quando stavi in Portogallo c'erano 44 gradi percepiti invece E forse Paul, ti ho visto un attimo bloccato lì No, perché ho visto siete saliti, ma comunque non parli questo Ma sai che anziché farmi... anziché stragolare i posti altri Hai ragione anche se Questa è la stanza del BMW di Justin, c'è davvero tanta tanta roba C'è l'aircon, quindi bello fresco Bello elegante, devo dire Quindi... Io e Paul lo vedremo qua Giù c'è la stanza per Gyrus Quindi... No problemi E questo è il bagno Questo è il bagno Prima che venga distrutto da varie situazioni Scherzo Questo è il bagno Questa doccia fighissima Che è più larga di quella di Enos Quindi ci dovrai riuscire a docciare bene Quella di Enos è veramente stato uno stragole E niente, questo bellissimo specchio Poi qui abbiamo la vista Nel fore Che bello Vero Paul? Eh? Bello, Paul No, bello, è bello Poi questo erco è ancora più bello Esatto Questo è proprio un ponte vecchio Sì, proprio quello Comunque lo dico in italiano perché poi in inglese dopo in papi no? Comunque si va a mangiare In inglese o spanish? Maybe you've got something on your nose Ok, hi! I wanna greet them in inglese Just because I feel more comfortable right now So we're eating with Vastora Vivian We're eating like rice, real vegetables And Mangia Oh, che me guardi? Mangia, non lo... Guarda, ti zoom, ti zoom Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda qua Ansi Here we are To the Colosseum, right? Yes How do you call this? Pizza Leaning Tower Pisa Leaning Tower That's what you said, no? Pisa Leaning Tower Yeah, the Leaning Tower of Pisa Is that? Are you sure about that? What was that? I'm leaning Ah, you're leaning? Ah, ok You didn't get the joke, sorry Comunque l'altra volta non mi ricordo se sono passato a quel vlog oppure no Ah, c'è ancora, oh c'è ancora Comunque questo è il Colosseo Bello, fiero Davanti alla metro It's amazing Still, I don't know if... I will talk in English in this vlog or in Italian Just because there's a lot of Canadians here, so... Maybe they won't get what I'm saying, so I'm just gonna do this vlog in English, so... Yes If you don't like my English, it's not my problem, it's yours Joke I never said anything So... We're now in the Colosseo With Jail and Paul I think she's about to propose No, I'm joking I'm joking What is this? Oh, damn No proposal No proposal Not at the moment It will wait like, I don't know Like... Two years? A year A year? Oh damn That's close Ok then Comunque ragazzi veramente I don't know I don't know This vlog will be very international You can see all the Canadian people here that are taking pictures If they call to see you Hi Hello 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 Ok, we've arrived at the Altare della Patria, right? Yes What's the last time? How did you call this? Hmm? Ponte Vecchio What was it? Ponte Vecchio Ponte Vecchio Ponte Vecchio Vedi, Silenzio e Ponte Vecchio La stessa cosa Dove è la Tico Vecchio? Zoom Antico Vecchio Ah, ok Sì, sì Come vedere la costruzione della Metro Dov'è la Metro? Eccola Questa è la Metro? La Metro, sì C'è tutto qui E spieghi un po' la storia della Metro Niente Praticamente fanno costruzione a Metro C Con la pelle che voi Viense Se venite qua a Roma Ma basta che noi di Roma andiamo a di a Firenze Sì Venite più velocemente qui a Ponte Vecchio Do you have like these places in Korea also? Nothing Nothing like this You don't have them in Korea? Ok I feel like I want to speak Spanish now So, how were the stairs? Good? The stairs were good The stairs were... Stairs I feel like... Oh 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 guarda c'è un pochino raro stanno davanti guarda che fiero, guarda lì che mangia gli insetti non ci riesce, non ce la fa però vedi come si mette in posa per noi fanno più le foto lui che ho con le sole lì dietro come si chiama? questo si chiama via del corso BB, 777 su ogni cosa sono Dark Pirates ma che cosa? ok, va bene, è tutto a posto volevo solo bere, invece guarda che Ercunbono c'è qua dentro mamma mia, è bello go 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 go, we're gonna dance dance in the river eee eee però lo devi impari a poi il tiktok eh è vero, è vero ballate e ballate però è un tiktazio che parla bene la storia di my lord and say vuoi? vuoi facerlo? vuoi? vuoi me lo chiedi? e allora se stai chiedendo vuol dire che vuoi impararlo eeeh 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 l'ho già sfruttato le scarpe, guarda non ce le copro in testa, non va bene non mi piace sta cosa eeeh devi metterla sempre, non va bene guardate che figo, cioè eeeh eeeh siamo da pasta asciutta penso ci sono vari tipi di pasta e penso di prendere oh hank 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 questo dipende da carbonara poi non so se prendo un altro piatto oppure no però non ci sta certo? no 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 bene bene quindi adesso comiamo il spaghettino di carbonara con il Michael, come è il tuo caccio di pepe? è davvero davvero buono non credo che ho avuto qualcosa come questo prima la pasta è troppo calda come il caccio di pepe ok non è così buono ok e poi la pasta è al dente ma credo che è al dente di tutto e è molto molto buono e hank 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 fino alla fine hank hank per sapere finiamo la pasta asciutta non mangiamo e ciao, a dopo sei da Roma? cosa è? da Roma da Roma da Roma siamo di nuovo a Montiti Bortini qui da Raktus con le tre così dillo dillo da Roma ok 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 eh ok ho fatto dormito prima è o E' stato un silenzio e niente, la te stiamo andando a giocare a basket con come si è fatto con quelli di Terni quindi se riesco a fare qualche clip a parte ancora ti ho mandato il video ma va bene, ok volevo chiederti un tempo a fare ma senti un po' vabbè, comunque farò come con Terni, quindi niente buongiorno e a dopo graziamo Justin per questa bellissima relazione, grazie Justin siamo qui tutti risultati, hanno fatto clip del basket che ero impegnato a fare altro e niente stai calmo e niente, buon appetito prima di service una seconda relazione da fatti di pari non sai che sia stato anche l'anno scorso nel vlog, però vabbè pizzette easy acqua trezzante e si va con loro cioè non sto vloggando solo con acqua praticamente ma va bene vabbè, ci vediamo con la pizza dai l'amーん dios l'amーん l'amーん s'asso di l'amーん salam rapetà patomagano l'am pas la salamat o salamat o l'am l'am san l'am Musica 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 Visto grande, Trianze è bello, visto? Trianze merita. Trianze Caputmundi, vero? Sì, sì. Trianze è bello? Mamma mia. L'altro mi sa che si fa il Giretto del Colosseo, poi forse si fa a mangiare da qualche parte, quindi... A dopo. Sì, è una delle cose che hanno fatto bene qua. In che senso, scusa? No, mi dici so, sei il vlog. Che vuol dire? Roma è una bella città. Ah, ok, ok, bella, Roma capitale. Ti piace Kenneth, Roma? Aesthetics e... Sì, c'è meno oggi. Buonesso, questa è Piazza Spagna, quella gente è riseduta, lì c'è la chieda. Qua c'è la frontale che stiamo controllando. Tristan, bevi, dimmi se ti senti male, prova a bere. Non so se è acquapanna. Non so se è acquapanna. Guarda, oh, guarda, buono. Ecco, siamo qui con tutti Roma, Roma, Ottavia, Roma, Maine, Canada, Arezzo, McDonald's, what? Ok. A mangiare i nostri bellissimi tre pezzini al mercato centrale, come sempre. Andiamo con la sorella di Justin. e anche se stiamo facendo colazione dal bar di Giastery. Tutto molto buono. Al bar Rattus. Buono, buono. Buono. Guarda come sono i denti, non è sempre spiegato alle 5.00 del mattino. Però dormito. Ora ragazzi, altra carbonara perché siamo a Roma. Se non mangi la carbonara, sei un tacchino. No, scherzo. Ho preso la carbonara anche lui. Già ricevo la carbonara. Ho preso la tela per i mazzo. Non la carbonara. Ah, carbonara. Ah, carbonara. Ah, carbonara. Ah, carbonara. Dai, Roma, dai. E niente, rara, ta. Aspettiamo anche un secondo, la stanno ancora aspettando il cibo. Bibi? No. Rose, era fredda questo. Cosa sta facendo? Ah, c'era una piccola? Ok. Oh, i philippines. Oh, i philippines. Ok, dopo aver mangiato siamo qui a prendere l'acqua e la bottiglietta. Siamo a Trastevere, ora siamo andando a Fontana di Trevi. Basta. Potreste anche dire qualcosa? Dai, vieni, siamo andando a Fontana. Se vuoi venire, vieni, dai. Non traducete questa parte. Ok. Comunque niente, stanno prendendo dei souvenirs. Non è che ci mettono ancora l'acqua, solo che noi siamo abituati a un pace veloce. Vedi che loro non potevano camminare per 30 minuti. Volevano mangiare il McDonald's. Non me l'hanno detto. Non me l'hanno detto. Non me l'hanno detto. Non ci sta. No, non è vero. Questi sono i segreti, ragazzi. Oh! La granitozza gratta da Crangetta Keika con la frutta dentro, preso mela verde e cocco. E poi c'è lui che spunta. Sponsor Coca-Cola. Ringraziamo Roma. 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 Ma armi o l'acqua ti fai. Ma ce l'ho spazio di diφastrani, E' quello che s'ha sentato in gemiare. Ci fai per favore. E' un po' di idea E' un po' di più E' un po' di più E' un po' di più Spacca Spacca Beccatevi il Pantone di sfuggita Perché tanto l'avete già visto nell'altro vlog E non è che abbia Stai cosa da far vedere Ah forse c'è Precious qua E anche in realtà E' un po' di più 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 Ma con Molly cos'è? A Roma Non c'è nessuno Non è come Tommy Tommy è orgoglio fiorentino E' un po' di più Quella delle papparelle Quelle E' un po' di più Vero? Dai cuia dai Ok in realtà siamo Precious Spagna Dai So Do you like Rome so far? I love it Parapapapa McDonalds E' un po' di più E' un po' di più So ragazzi E' un po' di più E' un po' di più Ciao tutti Il mio nome è? No No it's not Il mio nome Name Or can you just say mi chiamo? Mi chiamo And then your name Ciao tutti Sono Monica Vengo del Canada I'm Italian I'm Italian now All those who are Italian Have to introduce themselves In either English or French Ciao tutti Ciao tutti Ciao tutti Ciao tutti Ciao tutti Sono Nicole E' un po' di più Naturale 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 Prezont 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 Natura 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 Picture taking Shock names Damio Like, Subscribe, and Comment Thank you Follow AGC I am Unity on Instagram Thank you Unity.mtm Regent7 Oh wait Try that again Regent7 Why we all do a different Ok Ok Allora Iscrivetevi Iscrivetevi A questo Ciao Can someone hold this room? Dai Roma Oh, why was that? Her headphone casa So We have a different... Don't be quiet Ok, hold your tears I won't, I won't, I won't Ok Are you gonna miss her? I'm gonna miss you all so much You guys In a span of a week and a half You guys became my favorite people on this planet Yo And I mean that actually though Like I actually mean that Thank you And like I'm gonna miss the food too I'm gonna miss not eating processed food Heavily processed food And Yeah I mean I'll be back very soon because You hope so Italy has my heart now So So I'm gonna be back very soon So So are you like Are you happy that you're leaving? No, I want to stay here They're about to cry Don't cry Bye bye They're all crying Bye 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 Ciao, ci vediamo un prossimo anno Vado Vado pure io con voi Si si Ah We only have Only have six minute We only have six minutes 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 Welcome to Italy Hi Philippines Hi Philippines C'è anche pastora Vivian qui Sì 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 In realtà non mi ricordo Sto vloggato un po' il cibo Però siamo qui a Tiburtina Che ci va a prendere la metro Questo possiamo Molto Al tram E niente C'è anche pastora qui C'è vada via Non lo so Bello il vlog con pastora Vivian E niente E niente A dopo Penso Giallibi Iniziamo la clip Buongiorno Non so se ho vloggato qui Ma non me lo ricordo Ormai No vabbè Comunque siamo qui con Quegli altri al bar Venite qui a Monti Tiburtini Giusto? Tiburtini Inventaglio Dove fu in Canada Che mi fai scusare di dare I'm sorry Michael Eh Che ladra Mamma mia E anche Comunque siamo Tutto scivolo che c'erano loro Quindi tanta roba Venite qua Da loro C'è anche pastora E niente Buona buona giornata Comunque Dopo il bar Sono qui con Giambi Finalmente un vlog Completamente in italiano Perché L'inglese stava anche finendo A un certo punto Cioè What's up guys Oggi siamo qui Ma è romano Vabbè Che vuol dire che è romano? Eh 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 Tutti i romani sono Sono Voi sapete cos'è il centro Tutti i romani sono romano Oh ma scusate Ma Dov'è il centro? Il centro? Sono io Il cuoia Non so dove c'è No grazie No dai Non è vero Non è vero Siamo a una sala giochi A Porte di Roma Dai prova No dai non sto a barrare Dai vieni 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 Dai vieni vieni Eeeeeee Eh 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 Eeeh eh 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 No l'ho preso male Damn No eri vicino da lui Ho preso male Un altro Un altro Perché C'è? Provato! Nooo! Di uno! Insomma, c'è anche Grace adesso, non so se c'era prima, non c'era prima nel vlog, c'è la storia di Justice, poi abbiamo Claire lì che ci guarda sempre male, poi c'è Giastri qua, c'è Giambi che dice che è meglio l'IKEA di Londra, questo spacca! Un euro poi viene, questa cosa! Sto mangiando salato, grazie! Sto mangiando salato, grazie! E niente ragazzi, io penso che questo caldo lo faccia molto bene nella vita! E poi dobbiamo ritornare qua per prendere aluato! Guardami, guardami! Bel trick! E' vero, è vero! Sì, è vero! Sì, c'era anche il fatto che c'è Tita Gela, almeno giusto per metterla! E' vero, è vero! Sì, ha visto che gli ultimi notici c'erano anche lei, ora faccio vedere anche Tita Gela! Eh, ma quest'anno mancava, ecco! Ah, questo mancava! No, c'era! C'era ma non l'hai vista te! No, no, quest'anno mancava nel vlog! Anche solo per due ore! Va bene, va bene, va bene! Volevamo dirtelo insieme! E invece? Dirtelo insieme? No, io già! Tu sei geloso? Sei geloso? Sei geloso? Justin, che cos'è questo posto? Villa d'Orlonia! Villa? D'Orlonia! Ah, c'è la residenza di Mussolini! È quella, eh? Comunque siamo... Cosa? Non l'hai preso? L'Empanadas! No, l'Empanadas! No, l'Empanadas! Ah, la, vero! Comunque siamo con gli altri! L'ho preso zero e per Paul! Adesso lo andiamo a accompagnare a prendere dei suppli! Ho preso l'Empanadas! Amore, casù! Spero ci stimo! Che il nostro compagno di avventura di viaggio, Paul, ci sta abbandonando! E se ne va via verso Milano! Cioè, va a Firenze! Lo salutiamo! Oh, cuoricini, cuoricini! Cuoricini, se non piangere già hai riuscito! Che spero! 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 subito sto verso mi piace sta cosa alla stazione che danno verso chicken water e non mi tieni così direttamente jayrus è triste andiamo via comunque niente salutiamo gairus dopo questa bellissima corsa di aver mangiato dice eros che sta per piangere ragazzi non piangere non piangere piangi per il video aspetta piangi per il video dai ci per il video dai canzi no dai c'è niente no fai finta fai finta aaaaaaaaa che riso? muoio o siamo al mare con tudor dobbiamo fare una tappe va bene va a vedere è tirata poi c'è la giusebiscia che sta facendo waterbuff ormai come al solito caffettino panino fratto ormai sono sempre qua praticamente a fare colazione oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno non vi faccio vedere in faccia che ormai è andata tra stanchezza e bronzatura eccetera eccetera e niente comunque le clip sono mettendo sui clip random praticamente visto che sto viaggio a roma sto durando quasi una settimana in realtà e niente in realtà quindi gg direi e alla prossima mangiata alla fine siamo al sushi ragazzi con la pata negra con cielo spicy poi ci sono queste bellissime persone troppo impegnate a mangiare guardate lì quanto sushi questo truffle joe con il tartufo sopra qua c'è l'angolo con tristan e jansen guardate tristan pochini tristano non so se si vede ma questa tempura è enorme c'è da io ho proprio tutti gli spiadini un kuyaki estere greste sarebbe angelica questo è angelica sarebbe angelica fatello di giulia e dopo sushi una bella granitina gelatina da bottiglia come nello scorso vlog a roma se non sbaglio e niente in realtà mi ricordavo diverso però siccome ora è mattina non buio dopo la camminata ci sta vero grace comunque in questo momento ci troviamo a trastevere la versione delle banche reale che abbiamo noi a firenze accanto all'arno e niente andiamo a cercare solo un posto in cui mangiare robe simili e niente la camera è tutto fiso sono anche i giochi o quasi cascina diciamo va bene così la scuola ci sono Ciao ragazzi, qui è un po' disperso, non lo vedete, vedi che guarda male la gente? Comunque hanno scambiato qui a Mave da uno cinese a uno spagnolo, che infatti hanno che ha spagnolo, vai spagnolo. Io sono venuto, io vengo da Panamà e sono un miglior scobar, guerrero. Ti chiede, dici. Io non voglio parlare spagnolo. Sono pronti, sono pronti, guardate. Guardate quanto bello il posto è. Mamma mia. C'è una serenite per cui amavi che spagnolo. E' esausto. è la sua. Sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, è collegato con il Vaticano, questa è tipo una via segreta. Sì. E niente, qua è dove poi va il Papa. E come si chiama? E si chiama? E si chiama Castel Sant'Angelo. Perché c'è un angelo lì sopra? Eh già, però guarda, ci sono i lavori. Rivede l'anno prossimo, dopo il Giubileo. Per concludere, una bella nata checca, pera e miele. Ultimo passo, insieme, passimo di partire. E niente. Buonanotte. Bye bye, bye bye. E con questo posso dire che il mio soggiorno, in questa bellissima casa, questa bellissima stanza che mi ha accompagnato per una settimana, cioè devo andare via martedì, invece ci sono rimasto praticamente una settimana. E' finito, devo dire che sto comodissimo a bere questo air con qua giù e il comfort di questo letto, i cuscini e poi soprattutto Justin e tutti gli altri, quindi devo dire che questa vacanza romana si fa veramente il top. Come vedete, sono pure abbronzato nella prima clip di questo vlog, all'ultima, sono abbronzato ma va bene così. E' un'antidea di lasciare questo a posto. Se avete sempre molti tiburtini a Roma, venite al B&B di Justin perché tantissima roba, sia per supportarli che anche perché questo posto è bellissimo. E niente, ora vado a fare colazione, saluto chi mi viene a salutare e ciao. L'altro mattino ha aperto quella presaola e poi si va con i cappucci di Justin. Ultima colazione qua a Roma, sempre a Justin. Eh, io mancherò a sto posto, ma ragia. E niente, il mio treno è arrivato, mi sa che tra poco me ne vado via. Sono Justin e Grace a fruttarmi dopo questa bellissima settimana romana. Vado via con dei cornetti. Sabato a sabato? Sabato a sabato. Street da in WC. Quindi, GG. Ok, video del Maverick del futuro perché oggi è il 25, ancora per poco in realtà. E sto evitando il vlog, mi sono ricordato adesso di non aver finito il vlog. Scus. E niente, in realtà, come avete visto, è un po' particolare perché comunque ha delle clip tagliate in pezzi. Tipo, otro baptism, c'era pochi pezzi del mare. Dopo il mare, in realtà, sono natale a McDonald's e roba del genere. Però, vabbè, siccome è un vlog che durerà 40 minuti. Visto che ho detto, a questo punto, voglio fare una roba unica, ma per di tutta la settimana, sarà così, insomma. Quindi, ragazzi, innanzitutto ringrazio tutti i romani, tutti i canadesi, tutti i giambi. E niente, per questa bellissima settimana. L'ultima settimana delle ferie, poi è stata, in realtà, quindi GG. Ci vediamo direttamente per un prossimo vlog da qualche parte. Prossima destinazione, non lo so ancora. Però, sicuramente, andrò a vedere altri route di altre città. Quindi, ragazzi, mettete un mi piace, intanto, condividetelo. Ditemi se siete arrivati fino a fine video, che sono 40 minuti di video, in effetti è un po' lunghino, però... Vabbè. E niente, ragazzi. Tsunami and God bless.